Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Scoppia la polemica a Ballando con le stelle, Rossella Erra risponde a Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata di sabato scorso, Lucarelli aveva lanciato una frecciata alla giurata popolare Erra, che aveva deciso di evitare polemiche. Tuttavia, una volta che il video dell'insulto era diventato virale, Erra ha deciso di replicare. Durante la sua ospitata alla volta buona, ha risposto duramente a Lucarelli, che aveva criticato il suo uso del turco anziché dell'italiano. Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, Lucarelli aveva ironizzato su Erra per aver parlato in turco con un concorrente. Inizialmente le parole di Lucarelli non avevano scatenato reazioni, ma Erra ha deciso di rispondere durante la sua ospitata televisiva. Ha commentato ironicamente la battuta di Lucarelli e ha sottolineato l'importanza dell'educazione rispetto alla lingua. Erra ha poi elencato i suoi titoli di studio, sottolineando che non sono loro a definire una persona. La conduttrice della volta buona ha fatto notare che Lucarelli non fa più parte dell'ordine dei giornalisti dal 2023, suggerendo che Erra stava per diventare giornalista. Resta da vedere se Lucarelli replicherà a queste dichiarazioni. La polemica tra Lucarelli e Erra continua a tenere banco, con entrambe le parti pronte a difendere le proprie posizioni. La discussione si è accesa e il pubblico è diviso su chi abbia ragione. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi in merito. Grazie a tutti.